Ciao e bentornati, io sono Valerio Novara e oggi vi parlo di Fedeltà, una miniserie uscita su Netflix il giorno di San Valentino. Come al solito, se non siete ancora iscritti al nostro canale Ciacca e Azione, vi consiglio di iscrivervi e di attivare le notifiche per rimanere sempre aggiornati sulle nuove recensioni che usciranno ogni settimana riguardo i film e le serie tv. Fedeltà, una serie con Lugrezia Guidone e Michele Riondino, italiana, che trovate su Netflix in sei puntate a partire dal 14 febbraio. È una serie che mi è piaciuta molto e devo spezzare una lancia in favore del cinema italiano perché si dice sempre che il nostro cinema e le nostre serie tv siano una spanna sotto a quelle americane, insomma britanniche. Invece devo dire che è stata fatta molto bene ed è verosimile soprattutto perché parla di una coppia, insomma, la soglia dei 40 anni, che si ritrova a fronteggiare il tema della gelosia e del tradimento e della fedeltà, appunto, che è il titolo dell'intera miniserie. Una storia di due persone che vivono a Milano, insomma questa coppia vive a Milano, lei fa la gente immobiliare, mentre lui è un insegnante di letteratura e anche uno scrittore che però ha difficoltà a finire il proprio libro perché non trova la vena giusta, l'ispirazione giusta. Nel corso delle sue lezioni all'università, insomma, a Milano, conosce una ragazza, una ragazza Sofia, una ragazza di 20 anni, della quale si imbaguisce e inizialmente lo spettatore viene messo di fronte a questo rapporto, insomma, che lui dà consigli a questa ragazza sulla scrittura, sul pubblicare dei libri, insomma, sull'italiano e finché un giorno non vengono beccati, tra virgolette, nel bagno dell'università, con lei che si sentiva poco bene, insomma, che è lui che la sorregge. Una ragazza li vede e quindi mette in difficoltà lui come professore di fronte al direttore, al rettore dell'università e quindi viene anche additato come colui che stava importunando una ragazza di 20 anni, insomma, sono 20 anni di differenza di età. Contemporaneamente la coppia protagonista, lei che fa, come ho detto, l'agente immobiliare, fa vedere casa ad una coppia, una casa di Milano, un bell'appartamento, insomma, a un certo punto entra, la prima scena è molto emblematica perché nella prima scena lei sta facendo vedere questa casa, questa coppia che vuole acquistarla, entra dentro l'appartamento un cliente, così a prima vista sembra un cliente, che dice, io pure avevo appuntamento per vedere casa e lei dice, oddio, devo essermi sbagliata con gli appuntamenti, con gli orari, vi dispiace se ci segue anche lui. Questa coppia è un po' così titubante, dice, va bene, dai, se non si può fare altrimenti. E in realtà quando la coppia se ne va e rimane questo fantomatico cliente non è altro che il marito e i due fanno sesso dentro questo appartamento in una scena che è molto bella, è molto significativa per sottolineare la grande complicità che c'è fra queste due persone. Quindi la serie parte con un grande rapporto di complicità che c'è fra i due nella coppia, che si va però a distruggere nel momento in cui lei decide di fare una proposta per quell'appartamento, quindi per acquistarlo per loro due, aveva grandi progetti per la coppia. Nella stessa sera lui le svela quello che era successo all'università, cioè che era stato beccato nel bagno delle ragazze con questa studentessa di vent'anni e è una sorta di pulce nell'orecchio che va nelle orecchie della moglie, perché comunque lei inizia a pensarci sempre di più e dice ma chi è questa? Succede che mentre si trovano in macchina insieme, erano usciti una sera, insomma per andare a bere una cosa, succede che questa studentessa lo chiama intorno a mezzanotte davanti alla moglie e lui inizialmente non sa cosa fare anche perché in viva voce spiega alla ragazza Sofia che è insieme alla moglie e che non è l'orario adatto. Lì non fa che peggiorare le cose perché la moglie dice perché hai dovuto dire che ero qui, hai qualcosa da nascondere. E da quel momento, da quella rivelazione insomma del marito, del fatto che era stato beccato dentro al bagno, ma che lui sosteneva di non avere nessuna cosa da nascondere, insomma era solo andato a consolare questa studentessa, succedono una serie di eventi, scaturiscono una serie di eventi che portano lei ad avere tanti dubbi sul marito. Credo che la serie si concentri più su questo che sul tradimento vero e proprio. Nel senso che il dubbio, ho sempre avuto l'idea che sia una delle sensazioni e delle emozioni peggiori, quando si è nel dubbio non si sa cosa è successo, non si sa se ci si possa fidare dell'altra persona. Quando una coppia raggiunge questo punto difficilmente poi le cose si riescono a risolvere in breve tempo. Quindi viene meno anche la fiducia in suo marito. Parallelamente lei frequenta, per un problema alla gamba, uno studio di fisioterapia, dove conosce un fisioterapista, un bel ragazzo, insomma, al quale inizialmente lei resiste, tra virgolette, nel senso che è un ragazzo molto attraente, molto sexy e c'è uno scambio di battute. Finché ho notato che lei a un certo punto dice dopo che mio marito probabilmente ha avuto una storia con questa ragazza, mi sento quasi in dovere di lasciarmi andare e di fare una cosa che prima non avrei fatto. Quindi cominciano a venir meno anche i suoi progetti dell'acquisto di casa. Esattamente lei fa una cosa illegale, cioè spiega ai clienti che volevano acquistare questo appartamento che la casa non era più in vendita perché la voleva acquistare lei quando il prezzo si sarebbe abbassato, che avessero accettato una proposta più bassa. Comincia invece a farla vedere altre persone e finisce per andare a letto con questo fisioterapista. Insomma, la storia fra i due prende una brutta piega e il marito, nel momento in cui si rende conto che effettivamente c'era qualcosa con questa studentessa, decide di raggiungerla a Rimini da Milano e inizialmente quando ho visto intorno alla quarta, quinta puntata la divisione che c'è stata, perché poi a un certo punto lei torna dalla madre, quindi si confida anche con la madre, lui raggiunge questa studentessa, ho detto chissà come la faranno finire questa serie. E spoilererò, perché ne volevo approfittare per spiegarvi un po' il finale aperto della serie. Noi all'ultima puntata veniamo catapultati in un futuro, un futuro prossimo, in cui addirittura lei non sta col fisioterapista e lui non sta con la ragazza ventenne. Anzi, lui aveva tanti problemi per scrivere questo libro e per finire questo libro, che diventa uno scopritore di talenti e lo fa pubblicare a questa ragazza, il proprio romanzo, insomma, che avrà anche successo da quello che riusciamo a capire dalla serie. Mentre lei, che aveva sempre avuto il sogno di fare l'architetto, insomma, trova un locale in affitto e lo prende per aprire il proprio studio. L'ultima puntata si basa sull'inaugurazione di questo nuovo studio di lei e pensiamo tutti che si siano lasciati e che a un certo punto avevo anche la sensazione di credere che fosse una delle poche serie che fa andare le cose e probabilmente come devono andare a un certo punto. Ci sono delle situazioni in cui due persone, una coppia, non può stare insieme per forza, che non ci sono i presupposti, non ci sono le basi, soprattutto di fiducia, quindi quella fiducia che si costruisce nel corso degli anni per stare insieme. Paradossalmente non sta nemmeno più col fisioterapista che era palese fosse una situazione in cui di evasione dalla realtà, dalla storia, di leggerezza e fosse solo sesso. Mentre, per esempio, lui con la studentessa, quando ti rapporti ad una persona molto più giovane, che può essere una persona di vent'anni rispetto ai tuoi quarant'anni, fai credere comunque che ci possa essere un rapporto d'amore, quindi aspettati un innamoramento dall'altra parte. Così non è, inizialmente pensavo che si mettessero insieme, che ognuno sviluppasse la sua storia dopo la fine del matrimonio, invece lei sta con un artista che aveva conosciuto durante le prime puntate, sempre di più o meno la sua età, e lui invece non sta con nessuno. L'ultima scena, si vede che lui raggiunge lei a questa inaugurazione, insomma per farle le sue congratulazioni, e lei lo va a salutare, lo ringrazia, e c'è sempre comunque quella complicità tra marito e moglie che nessuno potrà togliere loro. Tra l'altro ho fatto una recensione pochi giorni fa di un'altra serie che riguarda questo argomento, che è Scene da un matrimonio, la trovate nel canale con Jessica Chastain e Oscar Isaac, e diciamo che questo argomento fa riflettere molto sul feeling, sul quanto ci si conosce tra marito e moglie, e sul rapporto che si instaura anche negli anni a venire, che si può instaurare anche negli anni a venire, ci sono storie che finiscono molto peggio e che storie che invece si riesce a mantenere un buon rapporto, ma c'è sempre quella complicità, ecco, forse la parola giusta è questa, complicità che permette a due persone di non smettere mai, di essere attratte l'una dall'altra, perché come dico sempre, quella è sempre stato il marito e la conosce meglio di chiunque altro, e viceversa, quella è sempre la moglie rispetto a tutte le altre persone che possano arrivare nella vita di una persona, il primo grande amore e l'amore che ci fa maturare, che si matura insieme nella coppia, non si dimenticherà mai, ed è emblematica apposta, parlavo di finale aperto, la frase che lei gli dice a lui, insomma alla fine, dice vediamo che te inventi stavolta facendo pensare, insomma, che ci siano anche le basi e i presupposti per poter tornare insieme. Una serie che consiglio, fatta molto bene, gli attori recitano bene, stranamente devo dire, recitano bene, non sembra una serie italiana fatta bene, verosimile, e riguarda comunque un pezzo di vita, un estratto della vita di tutti i giorni, di due persone di 40 anni che affrontano il problema, il grande scoglio del tradimento e anche come se ne esce, come se ne può uscire e come si può tornare ad essere felici dopo un'esperienza del genere. Fatemi sapere cosa ne pensate nei commenti, ditemi se vi è piaciuta e soprattutto se siete d'accordo col finale, se li aveste fatti rimanere insieme o se li aveste fatti andare ognuno per la sua strada senza lasciare questo finale aperto, che invece a me è piaciuto. Vi do appuntamento al prossimo video.